Ok, come si chiama questo piatto? Qui la chiamano l'acqua cotta in dialetto, il zuppa di verdura, ma è l'acqua cotta. Ok, ma tu come ti chiami? Io Marisa. E che sei venuta a fare qui? Io siccome ho gestito sempre la giornata di turistica di cittadina, e ho sempre cucinato le cose della volta, nelle contattive. Oh, e questa è l'acqua cotta? E questa è l'acqua cotta, quella che si trova nei casi, nei menù della... Allora, perché era difficile fare l'acqua cotta? Eh, perché le verdure si rompono tutte, se non fai attenta a farle un po' di... Oh, ma com'è che devi fare tre pile di verdure, come è? Beh, le ho cotte diversamente, ognuno lo cotta. Allora, una, le patate le ho cotte a sé, l'uovo l'ho fatta a sé. Qui c'erano i broccoletti, le verdure... Allora, broccoletti che erano tutte quelle verdure? Era broccoletti, cicoria, ricampagna e boragine. Ok, quindi erano buonissime, era dolce, non era stoppacciosa, se cagnola come quella che è l'acqua cotta normale, amara, come il fiero, è cattiva. Invece la tua era buona. Vi a vede, io mi ho portato pure l'acqua per allungare, vi a vede. Vengo a vede, vengo a vede. Ah, vedi, questa qui è l'acqua di cottura. Di cottura dei broccoletti, delle boragine e della cicoria. Va bene, ok. Ti ringrazio Marisa, era buonissimo. Grazie. Buonissimo, grazie. Grazie. Grazie.